Musica Marco, si va ai mondiali, alla fine è stato un bel campionato europeo, un quinto posto, una finale con la Francia, mai in discussione il risultato, i ragazzi sono stati bravissimi, grande prova di De Maggi, di Carrossino, si va ai mondiali, un bel risultato e una bella soddisfazione per te e soprattutto per loro. Guarda, partita partita, stiamo crescendo e oggi è una partita forse più dura delle altre, i ragazzi hanno messo anima e cuore e siamo arrivati a questo obiettivo, spettacolo. Senti, a questo punto ci godiamo questo successo, però da adesso in poi che cosa bisogna fare per arrivare a fare un grande mondiale e per avere una squadra che sia competitiva da subito? Mantenere questo fantastico gruppo e lavorare tutti insieme, come stiamo facendo? Senti, è vero che sono stati tutti bravi, però una parola per qualcuno in particolare la puoi spendere? No, no, io sono del parere che quando il gruppo e c'è una grande unione fa la forza. Oggi abbiamo visto una grandissima prova di De Maggi, precisissimo dopo tre partite e un po' così, però diciamo che è il gruppo che ha lavorato bene, ha pagato tutto il lavoro e lo sforzo e siamo arrivati a questo obiettivo. Grazie Marco e bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.